La vicepresidente Kamala Harris stava osservando con un binocolo la Corea del Nord dal confine della zona demilitarizzata della Corea del Sud. La vicepresidente si è meravigliata quando ha detto c'è qualcosa quando lo guardi con i tuoi propri occhi è così vicino. Il membro del servizio l'ha informata dicendo è a su di 50 metri di distanza signore. Al che lei ha risposto oh giusto. Poi dal nulla la vicepresidente ha iniziato a parlare del telescopio web della NASA con i soldati statunitensi e sudcoreani distanza nella zona demilitarizzata. L'articolo è riportato dal Daily Mail ma ascoltiamola direttamente con i sottotitoli che vi ho tradotto in italiano. e le immagini sono venite e le dimostrazioni di un'anni stagione. Ci sono un'anni stagione di un'anni stagione di un'anni stagione. È il più humbligo che hai mai visto. Tu hai bisogno di averne vedere. È veramente humbligo. Galaxiesi non aveva mai visto. Quando pensi che hai visto tutto, si hai visto tutto. Ok, I'm ready.